La situazione in evoluzione va cambiando, il cuscino di aria calda che sovrasta un po' tutte le nostre zone da diversi giorni, ormai da più di qualche settimana, tende ad essere eroso da correnti occidentali che cercano di ricambiare, di dare un cambio a quest'aria. Quindi i temporali, anche se sono verificati nella notte scorsa, in qualche modo, senza far danni, hanno eroso, hanno mangiato un po' di energia che pur rimane in buona quantità. Cosa combineranno queste correnti occidentali? Per domani, su Venezia e sul Veneziano, avremo una nuvolosità maggiore, non dovremo avere fenomeni, se non sulle zone verso l'interno, localizzati. I fenomeni si avranno tra sabato notte e domenica mattina. Prima mattinata, da iniziare da molto presto, avremo dei temporali che localmente potranno essere anche intensi. Poi nel corso della giornata, diciamo seconda parte di domenica, avremo dei miglioramenti e dei rasserenamenti. Non dimentichiamo che siamo comunque in piena estate. I venti sono dai quadranti occidentali, deboli, moderati. Le temperature si ridimensionano, per domani 25-26 gradi le minime, le massime intorno ai 30 gradi. Per dopodomani invece non dovrebbero raggiungere quei 30 gradi, quindi si riportano su valori normali. Per finire l'altariatico è previsto quasi calmo, poco mosso.